Settimana impegnativa per l'assessorato regionale all'agricoltura, diverse le problematiche affrontate, in primis la filiera bufalina. Abbiamo fatto il punto un po' sui progressi che si sono registrati, che sono peraltro stati anche comunicati dallo stesso presidente, ma abbiamo anche fatto il punto sulle cose che dobbiamo ancora fare, innanzitutto risolecitando il Ministero rispetto alle istanze che abbiamo fatto relativamente al rafforzamento dell'autocontrollo e all'estensione della vaccinazione, istanze per le quali siamo ancora in attesa. Abbiamo poi discusso anche del mancato reddito e della necessità dello sblocco dei fondi FSC per poter dare seguito a questo impegno assunto con gli elevatori. Il sistema è assolutamente ricomposto, abbiamo anche raccontato dei grandi progressi fatti soprattutto nell'agevolare, da un punto di vista burocratico, il rapporto con gli stessi allevatori. Sempre a proposito di settore zootecnico c'è stata un'importante riunione con il commissario, la PSA, il dottor Vincenzo Caputo, abbiamo fatto anche lì il punto della situazione e sempre per il settore sui Nicolo abbiamo anche interloquito in maniera più continua con la Commissione Europea per spronare gli uffici a darci una risposta relativamente all'istanza di avvio di pubblicazione della misura 5.1 per rafforzare la biosicurezza negli allenamenti sui Nicoli. Nelle prossime settimane immagino ci potrà essere la pubblicazione. C'è stata un'importante riunione con le OP dell'Ortofrut, abbiamo discusso delle varie problematiche in essere che attanagliano un poco il settore, anche ho raccolto le loro istanze che rappresenteranno nella marina adeguata lunedì prossimo durante la CPA che si terrà presso la regge di Caserta, la CPA, la Commissione Politica Agricole della Conferenza delle Regioni che vede presenti tutti gli assessori regionali all'agricoltura. Con il tavolo delle OP si è stabilito un rapporto proficuo e collaborativo e faremo questi incontri sempre più spesso proprio per rafforzare questo legame in un settore che è trainante per la nostra agricoltura.